Vogliamo qualificare la spesa del PNRR e quindi per farlo c'è bisogno di mettere mano alla connessione in un territorio come questo, quindi stiamo spingendo sulla digitalizzazione, sulla connessione dei comuni e soprattutto sul dare dignità al lavoro. Troppi giovani dalla Calabria scappano via e proprio dal lavoro e dalla qualità del lavoro si possono porre le basi perché i giovani restano qui a creare non solo occasione di lavoro ma di crescita e di sviluppo per questo territorio e soprattutto di vivibilità delle aree interne. La gente sta scappando via e un territorio bello come la Calabria rischia di rimanere un deserto da questo punto di vista. Allora vogliamo far diventare questo territorio attrattivo anche di finanziamenti, di imprese che vogliono venire qui a fare gli imprenditori e non i imprenditori e quindi anche questo è venuto fuori oggi nel ragionamento, soprattutto quelle imprese che utilizzano finanziamenti pubblici ebbene che vengono qui ad impegnarsi con responsabilità, con serietà. La CISL c'è. Oggi sicuramente il settore vive una forte crisi però abbiamo una grande opportunità che è quella data dal PNRR. Come sappiamo il PNRR sviluppa anche due fattori molto importanti dal punto di vista della crescita che riguardano appunto la digitalizzazione del Paese. Su questo asse noi siamo proprio interessati come federazione quindi noi proprio in questo congresso stiamo dibattendo proprio questi temi, cioè come fare in modo di poter essere protagonisti anche nell'utilizzo dei fondi strutturali che voglio dire l'Europa metterà a disposizione dell'Italia e quindi siccome andranno ad impattare proprio sul nostro settore, ecco qui stiamo elaborando delle proposte per quello che dovrà essere in futuro il nostro settore. Ci sono grossi problemi da risolvere. La precarietà che purtroppo in questo settore c'è, il costo del lavoro purtroppo basso rispetto ad altre realtà. È ovvio che vogliamo sulla digitalizzazione e poi domani anche nel congresso delle reti che faremo dunque anche con l'energia. Visto che il PNRR destina una buona quota di risorse da gestire da qui per il futuro noi pensiamo e crediamo che sul comparto delle telecomunicazioni una regione come la Calabria avrà sicuramente una fetta di torta importante che non dovrà essere osservire soltanto in termini di ammortizzatori sociali ma proprio per dare sviluppo, garantire i perimetri occupazionali e crescita per il futuro.